in diretta buonasera a tutti e nostro ospite questa sera e ferruccio pinotti un giornalista del corriere della sera che ho incrociato ormai decenni fa nella casa editrice fondata da lorenzo fazio larizzoli futuro passato labor futuro passato una casa editrice con la quale ferruccio scritto molti libri di successo indagando un aspetto un lato molto molto complicato del potere e la sua faccia oscura esoterica e la massoneria e l'influenza massonica in italia nell'economia nella finanza nella politica in generale anche nel mondo nel mondo del dell'informazione libri di grandi succede di grande successo che molti dei degli amici che ci stanno ascoltando sicuramente conoscono e questa sera invece ferruccio parla con noi del del suo ultimo libro ecco magari se ce lo mostro perché ce l'ho nella versione digitale eccolo è il libro il libro si intitola untold è un titolo in inglese che è tradotto in italiano vuol dire non detto quindi è un libro sul felprinelli ecco si vede la faccia anche del dell'editore guerrigliero e poi sotto i titoli tanto non detto c'è un sottotitolo che lascia intuire già di che cosa parleremo questa sera e la vera storia di giangiacomo felprinelli e sono usciti altri libri in questi mesi 72 2022 50 anni dalla morte di giangiacomo felprinelli sul treliccio di segrate e questa diciamo ricorrenza del 50 annale della 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 morte di felprinelli come sta un po accadendo in italia negli ultimi tempi invece di così innescare una discussione pubblica molto più laica basata su su confronto fra tesi ma fra tesi ovviamente no strampalate campate in aria ma documentate fratesi anche diverse contrapposte e come sempre dicevo accade come spesso accade da noi invece si è assistito a come dire a un ridimensionamento drastico diciamo così della narrazione della narrazione tradizionale ma sulla base di qualcosa poi non non lo si è capito fino in fondo e allora detto questo io comincerei con le domande a ferruccio poi a un certo punto naturalmente daremo anche il microfono a chi ci ascolta se ci hanno domande eh con l'avvertenza però che siano domande brevi perché a volte leggo leggo domande chilometriche ed è difficile è difficile eh tradurle perché sto diventando cieco eh quindi domande molto brevi e molto eh telegrafiche e la prima subito a ferruccio la prima domanda a ferruccio e questo eh Anton eh eh il non detto la storia la storia vera ecco Feltrinelli è un personaggio controverso possiamo fare una rapida carrellata diciamo così dei punti degli aspetti della sua storia della sua personalità su cui eh c'è molto da dire e e e e e molto magari lo dici tu nel libro. Volentieri grazie mille a Giovanni Fasanella per questo cortese invito eh Giovanni è un collega che stimo che ammiro da tantissimo tempo è un punto di riferimento per tanti giornalisti investigativi per tanti storici per tanti studiosi perché come pochi ha saputo scavare con enorme capacità dei temi complessi quindi è veramente un onore essere ospite di Giovanni Fasanella. Venendo alla domanda la figura di Feltrinelli è una figura di grandissimo interesse una figura tra le più importanti del del panorama culturale del novecento e siamo allora magari insieme a qualche punto eh fisso per chi ci ascolta se sei d'accordo Giovanni. Sì 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 prego lo vuoi fare tu o vuoi che eh ti provochi io subito su immediatamente. Vai tranquillo vai tranquillo. Allora intanto mi ero dimenticato di dire che tu eh sei un giornalista del Corriere della Sera, capo servizio del Corriere del Corriere della Sera eh oltre naturalmente a un saggista eh molto molto eh stimato e qualificato ecco così ho ricambiato i tuoi complimenti iniziali. E allora eh insomma un primo punto controverso della diciamo della vicenda di Feltrinelli è un po' la sua diciamo il suo ambiente familiare e ce lo puoi inquadrare ma diciamo non tanto non ci interessano diciamo sugli diciamolo subito gli aspetti così privati della sua famiglia quanto quelli che invece eh secondo te hanno una qualche relazione con con le vicende di cui poi eh Feltrinelli ecco è stato protagonista. Da che famiglia arriva Feltrinelli? Che 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 storia è quella della famiglia Feltrinelli? Allora una storia di grande interesse che si relaziona strettamente con la con la vicenda di Feltrinelli editore e anche rivoluzionario che ha una grande caratura internazionale che poi è il filone che persegue tutta la mia inchiesta. Allora Feltrinelli nasce nel ventisei da una famiglia di origine veneta proveniente appunto da Feltra e grandi commercianti di legnami produttori di traversine per le ferrovie dell'impero austro-ungarico diventano rapidamente i primi importatori eh esclusivi di legname da tutta la Russia eh e da tutta la Siberia e già questo elemento qui il rapporto con la Russia poi Unione Sovietica diventa un elemento diciamo di trazione internazionale che troveremo in tutta la vicenda Feltrinelliana che poi racconteremo. Questa famiglia consegue attraverso gli affari appunto legati a legno un enorme potere economico, si espande rapidamente nell'energia, arriva al controllo della Edison, diventano i primi azionisti del credito italiano, addirittura in un momento critico dell'Iri sotto il fascismo danno un sostegno finanziario all'Iri, eh si espandono nell'immobiliare acquisendo vastissime proprietà a Milano, a Roma eh acquisiscono fette di boschi tenute che spaziano dal dal Veneto al Trentino alla Carinzia fino alla Cecoslovacchia tanto che si diceva che addirittura attraverso le proprie terre Feltrinelli potesse giungere fino in Cecoslovacchia e lui amava chiamare questo lungo territorio la sua base rossa intesa come una sorta di canale extraterritoriale che passava appunto dal Veneto dal Trentino fino alla Cecoslovacchia. Ecco, Gian Giacomo Feltrinelli diventa erede prestissimo attorno ai 9-10 anni perché il padre si suicida in seguito a un contrasto con il regime fascista proprio per i rapporti con il mondo sovietico, il padre si suicida nel 35 e quindi lui ha tra i 9-10 anni e cresce come un ragazzo ribelle con un conflitto molto importante con la madre rimasta vedova che sposa il famoso Luigi Barzini Junior, un giornalista. Scusami, ti devo interrompere, Ferruccio, scusami, ti devo interrompere perché ci sono alcuni amici che segnalano il funzionamento del tuo microfono che probabilmente è mal posizionato. Ecco, così mi sentite? Sembra che vada meglio, riprendi, riprendi pure, se c'è qualche problema ce lo segnalaranno di nuovo. Prego, scusami l'interruzione. Dicevo che appunto la madre è sposa in seconde nozze Luigi Barzini Junior da cui avrà due figlie che diventano le sorellastre di Gian Giacomo. Gian Giacomo cresce come un ragazzo ribelle, sostanzialmente abbandonato a se stesso, gestito dalle tate ma anche dai giardinieri, dagli operai che curavano le favolose ville della famiglia Feltrinelli come la Cacciarella, Garniano, tutte queste enormi e gigantesche proprietà e a poco a poco passa dall'avere delle posizioni filofasciste, tanto che minacciava di denunciare i propri parenti all'ovra, a posizioni socialisteggianti e poi comuniste, tanto che verso la fase finale della guerra si arruola, sia pure per un breve periodo, volontario nella resistenza. Di lì matura il suo percorso come giovane comunista, come giovane aderente al partito comunista, cominciano delle sue donazioni regolari di soldi al PC e sotto il consiglio di alcuni grandi dirigenti del PC decide di utilizzare il proprio patrimonio per la nascita di un istituto dedicato agli studi sul movimento operaio, una raccolta quindi di libri, di testi e documenti che poi diventa anche libreria e diventa il primo nucleo della casa editrice, la quale proprio compie attraverso la Russia uno dei suoi primi scopi internazionali, pubblicando nel 1957 il dottor Zhivago di Boris Pasternak, un romanzo, un manoscritto avuto attraverso vie molto complesse da un suo scout, Sergio D'Angelo che era in Russia a Mosca per conto del PC e per conto di Feltinelli, lì pare che entrino già lì in gioco le amicizie con i sovietici così come altri servizi che favoriscono la fuoriuscita del manoscritto e la pubblicazione in esclusiva mondiale, come è noto poi Pasternak vencerà il Nobel e adesso seguono altri grandi successi come la pubblicazione del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, grandi autori come Adorno, Marcuse, Orkheimer, tutti grandi intellettuali tedeschi, insomma la casa editrice diventa presto un riferimento diciamo dell'intelligenza di sinistra. La prima però grande svolta accade diciamo tra il 59 quando lui compie un viaggio a Cuba l'anno e l'anno della rivoluzione con la con la moglie Inge Feltinelli che. Posso interromperti perché voglio farti una domanda sulla casa editrice, la Feltinelli lo è tuttora ma già negli anni 50 e nei primi anni 60 era una casa editrice diciamo di grande importanza molto influente a livello internazionale, una delle case editrici più importanti diciamo d'Europa ecco questa e questo è un altro punto controverso la storia della casa editrice Feltinelli è un centro di influenza come per esempio pensa il mio amico Pagliore spesso con lui si è parlato di questo è un centro di influenza culturale in che misura lo è ed è legato soltanto alla se lo è al mondo della sinistra, al mondo sovietico o altre ramificazioni? È un'ottima domanda perché spesso ci si è chiesto se anche i suoi redattori come il cofondatore Valerio Riva avessero valenze diciamo di intelligence e di capacità diciamo di lavoro informativo di altro tipo ma già nell'operazione Givago vediamo la caratura diciamo una caratura di questo tipo nella Feltinelli perché Givago diventa paradossalmente questo romanzo russo un asset un'arma della CIA nella strategia diciamo anticomunista nel senso che la CIA si preoccupa di farne un'edizione in russo attraverso un editore belga Mouton Press e distribuirlo gratuitamente tramite la fiera del libro di Bruxelles tramite lo stand del Vaticano quindi già queste cose ci dicono come la casa editrice a Feltinelli fosse un crocevia di personaggi di figure anche di amicizie personali di Feltinelli e della stessa Inge da Rovald a tanti altri editori e autori Gunter Grass tanti altri insomma diventa subito un crocevia e presto la casa editrice assume a poco a poco una valenza sempre più politica nel senso che Feltinelli nel 65 dopo un primo viaggio che citavo nel 59 decide di recarsi a Cuba da cui viene dove viene presentato a Castro da Saverio Tutino storico corrispondente dell'unità e poi di Repubi sicura che tu ben conosci magari diciamo due parole dopo per fare diciamo le memorie di Castro sulla rivoluzione attuata a Cuba lì nasce questo rapporto eccezionale incredibile tra Castro e Feltinelli ci sono le foto della Inge di loro due che giocano a pallacanestro sul tetto della casa di Castro ci sono le foto di Inge insieme a Hemingway a Cuba è un momento anche diciamo eroico ma è un momento che preclude che prelude alla politicizzazione di Feltinelli questo lo dichiara in un'intervista a Gianfranco Vene successiva del 67 incontrando Castro e innamorandosi anche del mito di Guevara capisce che non gli basta più essere un editore ma che vuole essere un rivoluzionario e quindi scusami Ferruccio quando va a Cuba Feltinelli ha già diciamo idee strutturate oppure ecco l'esperienza l'incontro con Fidel Castro ha una influenza particolare sulla sua formazione anche politico ideologica ma indubbiamente lui aveva già una coscienza politica forte perché per esempio si era posto in contrasto col PC dopo l'invasione sovietica in Ungheria del 56 quindi già lì era maturata una frattura forte col PC e rimaneva solo il rapporto con l'ala diciamo più dura del PC quella di Pietro Secchia l'altra figura che tu ben conosci ecco tuttavia diciamo è proprio l'incontro con Castro l'elemento scatenante perché lui lì si sente chiamato all'azione si sente chiamato a fare qualcosa c'è una sua frase che dice da questo momento come dire l'editore è morto nasce rivoluzionario gli incontri con Castro proseguono appunto nel 65, 66, nel 67 nel 67 c'è un'altra grande svolta politica Feltrinelli che nel frattempo si è lasciato con Inge Schontal e ha iniziato una relazione con una ragazza incontrata a Milano Sibilla Melega di origine altottesina viene a sapere che in Bolivia si sta attendo un processo contro un intellettuale francese il suo autore è il regista ebrei figlio della sindachessa di Parigi ancora vivo tutt'oggi e allora decide di recarsi in Bolivia non solo per assistere al processo di Debré ma anche questo me lo confida Sibilla Melega in un lungo incontro nella casa di caccia che le ha lasciato Feltrinelli a Oberoff in Carinzia per tentare addirittura di salvare Che Guevara cioè lui fa fare un trasferimento da una banca lui collegata a New York in una banca boliviana di 50 milioni di dollari arriva lì diciamo quindi con questa disponibilità addirittura per cercare di corrompere dei funzionari governativi pianifica di affittare un aereo e di raggiungere Che Guevara nella selva si mette in contatto con ambienti della resistenza boliviana tutto questo viene naturalmente scoperto dai servizi boliviani e dalla CIA che era molto attiva molto presente in Bolivia lui e Sibilla vengono arrestati posti in due celle diverse messi sotto pressione proprio da agenti della CIA mi racconta Sibilla espulsi attraverso il Peru anche con un intervento forte del governo italiano e da lì comincia tutta un'altra storia cioè lì nasce il secondo Feltrinelli che è l'oggetto diciamo della mia inchiesta ecco è un'inchiesta ricordiamolo che è molto ricca di testimonianze di documenti inediti e qui adesso ce ne parlerai e intanto hai introdotto il secondo Feltrinelli cioè il secondo Feltrinelli qual è? il primo è quello diciamo dell'infatuazione per la rivoluzione castrista ma diciamo siamo ancora del legame con un filone rivoluzionario insurrezionalista del partito comunista ma siamo ancora diciamo su un piano puramente politico ideologico che marcia parallelamente a quello della crescita della grande crescita di influenza culturale della casa editrice il secondo Feltrinelli invece qual è? è già quello del passaggio diciamo dalle idee alla pratica? esatto allora Feltrinelli è quello che dopo il viaggio proprio in Bolivia inizia la tessitura questo ce lo dicono documenti internazionali anche inglesi anche tedeschi atti di commissioni parlamentari interviste numerose che ho condotto inizia a costruire una propria rete chiamiamola eversiva nel senso che lui dopo la via Olivia sempre nel 67 compie un viaggio in Algeria proprio con Sibilla Melega dove incontra il presidente Boumediene che tra l'altro morirà poi misteriosamente avvelenato qualche anno dopo e l'Algeria era un paese come sai molto particolare perché era il centro vero operativo strategico della resistenza palestinese contro le invasioni di Israele era diciamo il punto dove confluivano i movimenti di resistenza non solo algerina ma panafricana dove venivano formate delle figure legate poi al terrorismo che ritroveremo anche in Germania anche in contatto con gruppi come quelli di Carlos Lociacallo quindi lui lì in Algeria inizia una tessitura una tessitura poi che che prosegue in direzioni apparentemente lontane che però hanno una loro coerenza cioè lui per esempio si reca in Sardegna dove prende contatto col bandito Graziano Mesina e con altri suoi diciamo adepti collaboratori cercando di convincerlo a trasformare Sardegna la Sardegna in una sorta di Cuba ecco scusami scusami Ferruzzo c'è un un nostro amico che pone adesso è sparito dal diciamo fa subito questa domanda è vero che voleva trasformare la Sardegna nella Cuba del Mediterraneo ecco così rispondiamo subito anche alla domanda prego vai sì sì assolutamente vero lui addirittura compra compra delle navi questo me lo racconta Sibilla Melega in persona prende contatto con ambienti del banditismo sardo non a caso viene inseguito attivamente dal SID cioè lui ritiene che che la Sardegna possa diventare la nuova Cuba però non si rende forse conto che la Sardegna era una base militare nato già allora molto importante che poi avrebbe ospitato anche missili nucleari quindi cioè non era un territorio qualsiasi dove poter impiantare impunemente una sorta di Cuba del Mediterraneo era un posto molto pericoloso comunque diciamo lui lì recluta anche delle figure che poi diventeranno figure importantissime del suo gruppo come Giuseppe Saba che era un operaio sardo emigrato in Germania dove esisteva tutto un nucleo di operai sardi e non solo sardi che militava nella sinistra estraparlamentare e stando a quello che ci raccontano gli atti giudiziari Fettrinelli crea anche una succursale una prima succursale del suo gruppo che è una fonte che chiama Gruppo Alfa in contatto con figure come appunto Saba anche Zamboni che a loro volta hanno rapporti con le RAF hanno rapporti con i palestinesi prego quindi vorrei rimanere un attimo ancora sulla Sardegna per dire perché qui è un punto molto interessante secondo me questa della Sardegna perché la Sardegna nella nella pianificazione strategica dell'atlantismo diciamo così e anche dell'atlantismo come dire occulto segreto per esempio la rete Gladio ecco la Sardegna era considerata come la roccaforte estrina cioè il punto da tenere a tutti i costi nel caso in cui ci fosse stata un'invasione dell'Italia dall'est comunista ecco secondo te c'è un qualche legame una domanda ovviamente tra questo ruolo strategico della Sardegna proprio al centro del Mediterraneo dal punto di vista dell'atlantismo e il progetto separatista di Feltrinelli assolutamente Giovanni ci sono entrambe queste valenze perché da un lato Feltrinelli è il primo uno dei primi grandi irredentisti diciamo uno dei primi grandi pensatori glocal si potrebbe definire oggi perché vede diciamo nei movimenti inserrazionalisti irredentisti come quello sardo ma anche quello alto tesino per esempio così come lui ha rapporti con l'Ira ha rapporti con l'Eta con i baschi così come in America con altre forze cioè vede nei movimenti come dire inserrazionalisti redentisti delle possibili forme di alleanza dall'altro appunto c'è l'elemento atlantico e questo ci porta già verso diciamo i pericoli di infiltrazione anche del gruppo di Feltrinelli di cui parleremo dopo perché figure come Saba da alcune fonti che riportano gli atti giudiziali viene considerato una figura difficile da qualificare c'è per esempio un regista Mario Zanotte che ho intervistato molto bravo molto impegnato qui a Milano che sta girando un documentario da anni sulla figura di Feltrinelli e batte proprio la pista sarda è riuscito a incontrare questo Saba io lo racconto nel libro questo incontro e lui è convinto come dici tu che la pista sarda abbia un elemento centrale nello spiegare tanti aspetti molto delicati della vicenda certamente l'elemento atlantico essendo la Sardegna uno snodo chiave delle forze atlantiche delle forze NATO non può essere trascurato quindi diciamo un altro punto controverso della figura e della storia di Feltrinelli è la sua la cosiddetta dimensione internazionale del personaggio cioè il suo sistema di relazioni che diciamo in parte è favorito da una casa editrice così prestigiosa ovviamente che ha nella propria scuderia molti degli autori più importanti dell'Europa e del mondo ma anche da diciamo dalle sue scelte di Feltrinelli persona dalle sue scelte politico ideologiche allora prima di parlare del Feltrinelli guerrigliero cioè quindi della dimensione interna la domanda che ti vorrei fare è questa diciamo viene viene prima il Feltrinelli col suo sistema di relazioni internazionali viene prima del Feltrinelli guerrigliero tra virgolette per il momento e se sì ci puoi un attimo descrivere la sua rete di relazioni internazionali hai accennato all'Algeria per esempio che era uno uno snodo importante ma credo che ce ne fossero altri la Svizzera per esempio la Jugoslavia la 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 il mondo palestino ecco ci puoi dare un quadro del suo sistema di relazioni internazionali sì volentieri come dici tu il sistema diciamo delle relazioni internazionali di Feltrinelli precedeva persino e anticipava e integrava il momento eversivo e terroristico questo ce lo dice anche un documento inglese che ho ricevuto che non ho fatto in tempo a pubblicare perché il libro era già in stampa ma di cui dopo diremo sento inglese io vado subito per quello appunto ti lancio ti lancio il sasso proprio per allora ce ne parlerai anche se non l'hai pubblicato nel libro perché ormai hai alimentato una nostra morbosa curiosità prego continuo molto volentieri questo sistema era molto vasto perché andava dalla Germania bisogna ricordare che Gian Giacomo parlava correntemente il tedesco avendo tra i suoi avi anche personalità austriache e lui per esempio nel 68 l'anno successivo alla Bolivia convoca e organizza e paga il cosiddetto Vietnam Congress a Berlino in cui lui pronuncia un discorso fortissimo in tedesco sulla scia appunto di quello che era lo slogan di Che Guevara morto l'anno prima 100.000 Vietnam la lotta che a un certo punto deve farsi armata la necessità di passare a fasi operative di scontro ma lui contiva rapporti lì con figure come Enrique Mainoff addirittura questo lo racconto molto bene nel libro lui ospita la Mainoff che è quella della famosa diciamo banda Badermainoff no? assolutamente sì una delle fondatrici della banda Badermainoff la ospita insieme al marito che era l'editore di una rivista di ultrasinistra che si chiamava Concrete con le due figlie le due gemelline addirittura la Mainoff la Mainoff spera di sposare al figlio un domani scherzosamente al figlio di Fettrinelli Carlo la figlia Bettina questo lo racconterà lei stessa a un'intervista a sette del Corriere della Sera la Mainoff voleva portare le gemelle ad adestrarsi in Palestina e solo un intervento all'ultimo momento di un amico di famiglia Stefan Haust che è ancora vivo oggi è stato direttore di varie riviste berlinesi va con la Porsche di Fettrinelli fino in Sicilia a prenderle le riporte indietro c'è c'è una rete di rapporti vastissima importantissimo rapporto con Rudy Ducke detto Rudy Rosso il grande leader studentesco che viene ferito in un attentato gravissimo da ambienti neofascisti viene ospitato e curato da Fettrinelli a Milano ma c'è anche e questo lo dicono gli atti non sono invenzioni Fettrinelli che dentro una due cavalli a Berlino porta degli esplosivi destinati a organizzare attentati dinamitardi questo lo dicono rapporti ormai dessecretati che figurano negli atti che ho avuto dal tribunale di Milano quindi c'è tutta una rete tedesca c'è diciamo il gruppo tedesco di Fettrinelli che comprendeva anche Petra Krause che comprendeva poi figure di livello intellettuale come quelli che abbiamo citato Rovold Klaus Wagenbach che si è spento recentemente che pronuncerà la sua orazione funebre a Milano nel 72 insomma c'è una rete vastissima tedesca poi c'è la rete svizzera altrettanto importante perché la logistica del network eversivo messo in piedi da Feltrinelli aveva la sua centrale proprio in svizzera in svizzera Feltrinelli deteneva dei conti correnti segreti come il conto Robinson Crusoe con i quali finanziava tutto il mondo delle versioni europee quindi faceva arrivare soldi alla Badermain o Fale Raff finanziava i compagni elvetici compagni francesi compagni palestinesi tutto si muoveva in svizzera lui in svizzera è un posto che tra l'altro è visitabile al Maloia poco sotto St. Moritz compra un gruppo di case e l'è in testa a due librai zurichesi Teo e Amalia Pincus dell'estrema sinistra a cui poi la casa rimarrà in testato io ho parlato con il figlio adesso si chiama Fondazione Salicina un posto molto bello una sorta di ostello che all'epoca doveva servire come rifugio per i latitanti della rete avversiva che ruotava attorno a Feltrinelli ma anche alle nascenti Brigate Rosse e lui scusami Ferruccio quindi è soltanto per collocare temporalmente questo questo aspetto della sua storia siamo a cavallo tra la fine degli anni sessanta e l'alba degli anni settanta giusto? esattamente sì diciamo che questa costruzione del network eversivo che poi diventa diciamo terroristico parte appunto dopo Cuba quindi dal 65 in particolare dal 67 dopo la Bolivia si intensifica nel 68 nel 69 quando lui prende anche contatto con elementi del del terrorismo palestinese nello specifico del gruppo del del fronte popolare di liberazione della Palestina e cosiddetto FPLP cioè la la più dura terroristica dell'olp peraltro lui aveva anche rapporti personali con Arafat ed era l'unico uomo al mondo che conosceva il nome di battaglia segreto di Arafat quindi lui coltiva qual era questo il nome non te lo so dire però questa è una rivelazione fatta in persona da Inge Feltrinelli e comunque lui coltiva rapporti soprattutto con Giorgia Basch che è il rappresentante più 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 di calibro dell'FPLP ma anche con Vadia Dad tra l'altro sono uomini diciamo di cultura sono medici sono suoi coetanei provengono diciamo dalla buona borghesia araba palestinese quindi insomma non sono dei guerriglieri qualsiasi sono persone che hanno una carattura intellettuale forte secondo un intellettuale palestinese che ho intervistato Amin Abulsi lui era anche amico di Zvaiter quello che venne ucciso dal Mossad durante l'operazione vendetta dopo Monaco 72 cioè lui si avvicina tantissimo alla causa palestinese diventa uno dei principali artefici addirittura gli atti giudiziari raccontano dei traffici di tre traffici di armi che coincidono con uno strano crack di un Giuseppe Pasquale certo Giuseppe Pasquale un finanziere produttore cinematografico che voleva fare con Feltrinelli di un film sul dottor Zhivago che poi in realtà fu fatto da Ponti narrano appunto di strane manovre tese a fornire aiuto economico ma addirittura armi al movimento palestinese e qui poi verremo al caso Breguet se vorrai che è una cosa totalmente nuova inedita restiamo la definizione al detto ci sono i rapporti con i francesi che sono molto forti con con Ben Di con tutto questo ambiente diciamo del 68 francese un ambiente che poi aveva delle propaggini italiane col gruppo Iperion che tu hai studiato approfondito meglio di me quindi figure come Simeone parola parola impronunciabile subito ci accuseranno di fare del complottismo esattamente figure strane come appunto Simeone che avevano però rapporti con la BPR con tutto il reso diciamo reso Jansson mondi francesi che nascevano addirittura dalla dalla battaglia di liberazione algerina diciamo andiamo in quella direzione lì che a sua volta era connesso col mondo palestinese perché sono gli algerini che a un certo momento aiutano Giorgia Bash a scappare dal Mossad quindi sono dei fili molto sottili poi c'è la rete cecoslovacca stavo per chiedere Petrinelli poteva arrivare attraverso le sue terre addirittura fino a cecoslovacchia aveva un villino a Praga dove dette protezione anche a Augusto Viel che è uno del suo gruppo ma era anche di una banda genovese commise un omicidio De Petrinelli lo rifugiò a Praga e a Praga girava tutto un giro chiamato la volante rossa di ex partigiani i quali secondo alcune informative dei sismi erano divenuti anche agenti dei servizi dell'est perché lì attorno a Praga ruotavano non solo i servizi cecoslovacchi ma ruotavano quelli sovietici quelli della stasi della DDR quindi anche lì c'è una rete importante poi appunto abbiamo scusami Feltrinelli a proposito di Praga e della cecoslovacchia cioè Feltrinelli aveva rapporti con questo mondo che tu hai descritto diciamo il mondo gli ambienti dei rifugiati italiani a Praga sì sì assolutamente questo lo dice anche a priore il giudice a priore lo dice in maniera molto netta che lui con tutto questo ambiente diciamo di rifugiati a Praga aveva dei rapporti strettissimi ma secondo Gianluca Falanga ricercatore che lavora al museo della stasi a Berlino che ha potuto vedere molte carte stasi Feltrinelli era addirittura un agente di influenza sovietico cioè lui Falanga dall'alto della sua competenza e di vari libri che ha scritto come la diplomazia oscura recentemente anche altri ritiene che Feltrinelli fosse non tanto un agente etero diretto una pedina da poco ma personaggio di alto calibro intellettuale e finanziario oltre che una risorsa per la Russia sovietica grazie all'importazione del legname sovietico ma che si muovesse secondo le linee secondo le sottili linee del patto di Varsavia un mio collaboratore Roberto Valtolina ha approfondito molto questi aspetti anche delle carte stasi con Gianluca Falanga e sono convinti entrambi che Feltrinelli addirittura e questo lo afferma una fonte come come Netanyahu l'ex primo ministro israeliano Netanyahu qualifica Feltrinelli come un agente del GRU che sappiamo essere il servizio segreto militare contrattare del più noto KGB però scusami Feltrinelli prego 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 no a proposito dei rapporti tra Feltrinelli tra Feltrinelli e il mondo sovietico rapporti che sulla base delle testimonianze che tu hai citato lascerebbero diciamo pensare anche a un legame anche di tipo operativo ecco diciamo così io non lo so ma siccome hai citato nomi di studiosi che sono seri e quindi è sicuramente una ipotesi da prendere in considerazione allora la domanda che ti vorrei porre è questa cioè se i rapporti di Feltrinelli al di là diciamo degli aspetti politico-ideologici erano anche di questa natura come si spiega questa apparente contraddizione tra appunto i legami di Feltrinelli del mondo sovietico la pubblicazione di un libro come il dottor Zivago che è certo per l'Unione Sovietica diciamo ha un effetto devastante perché è un successo mondiale strepitoso che ci dà un'idea di quel mondo che certo non era lusinghiera per i dirigenti del Cremlino come si spiega questa contraddizione beh una contraddizione che tu giustamente sottolinei ed è forte perché alcune carte che la CIA le uniche carte che la CIA ha desecretato su Feltrinelli pur avendone molte questo me l'ha detto anche il figlio Carlo sono proprio quelle che riguardano Pasternak il dottor Zivago tanto che è uscito un libro in America e anche poi ne è uscito uno in Italia di Mancoso sulla vicenda Pasternak quindi da un lato Feltrinelli è stato nella prima fase in quella prima fase anche una risorsa probabilmente involontaria della CIA nella diffusione di questo libro secondo per esempio il professor Aldo Giannulli da un'interpretazione provocatoria e stimolante dice guarda che in realtà i sovietici Zivago gli hanno consentito di pubblicarlo in particolare c'è stato un regalo della Gozbank la banca centrale russa che aveva un tale tanto potere nella pianificazione economica e che ben conosceva l'importanza economica dei Feltrinelli per l'economia sovietica che in sostanza gli hanno fatto un regalo gli hanno dato hanno chiuso un occhio gli hanno lasciato fare lo smuggling dell'anno scritto perché perché fargli questo regalo cioè perché diciamo darsi a zappa sui piedi senti è una contraddizione che però potrebbe essere anche diciamo accettabile nel senso che essendo lui una figura sostanzialmente questo ce lo dice il presidente della commissione stragi pellegrino ce lo dicono magistrati esperti di intelligence una figura quasi di agente doppio o triplo Feltrinelli poteva e doveva giocare su più fronti cioè Feltrinelli come agente ad influenza poteva essere speso nelle sue relazioni col Vaticano ricordiamo che le relazioni della famiglia col Vaticano erano forti e che lui addirittura vende una banca la banca di famiglia la banca unione e su pressione del Vaticano la vende a Sindone tanto per dire ecco quindi Feltrinelli aveva una caratura di ordine parlava cinque lingue fluentemente cioè una caratura internazionale di altissimo spessore quindi diciamo il chiudere un occhio perché se veramente i sovietici avessero voluto bloccare Pasternak i cui eredi poi furono senz'altro anche perseguitati anche i carcerati la Iviskaya però tutto sommato avrebbero anche potuto quindi secondo me non ha torto già nuli nel dire che a un certo punto hanno chiuso un occhio meglio che lo pubblicasse un editore comunista loro amico in qualche modo che non magari qualche qualche editore di altro tipo quindi allora scusa avevi concluso la tua risposta Sì avevo concluso nel dire che appunto questa rete che Feltrinelli crea in quegli anni è molto vasta questa rete ha anche diciamo dei lati interni oltre che internazionali perché non bisogna dimenticare che nel 68 69 si crea il cosiddetto collettivo politico metropolitano che è il nucleo tu hai scritto un libro che cosa sono le BR quindi qui pongo io a te la domanda insieme a uno dei suoi direttori Alberto Franceschini che io anch'io ho molto intervistato a lungo Feltrinelli ha rapporti con questo primo nucleo delle BR e che tipo di rapporti sono posso fare io a te la domanda Giovanni me lo consenti vabbè visto che mi fai la domanda esco per un momento dal mio ruolo devo citare la testimonianza di Alberto Franceschini ovviamente perché lui insieme a Curcio ha avuto rapporti diretti con Feltrinelli in quella fase delle BR appena appena delle neonate Brigate Brigate Russe e secondo Franceschini Feltrinelli era una sorta di ministro degli esteri ecco lui usa proprio questa espressione di ministro degli esteri delle Brigate Russe cioè l'uomo che era stato appositamente indicato dal gruppo dirigente delle BR come il delegato a mantenere le relazioni internazionali dell'organizzazione visto che Feltrinelli appunto aveva questo costruito questo sistema così vasto risulta anche a te diciamo le indicazioni concordano totalmente tanto che Franceschini disse quella famosa frase che tu ricorderai quando morì Feltrinelli restammo tutti come gattini ciechi due gattini ciechi a indicare che loro erano sostanzialmente dei ragazzi lui e Curcio no? parliamo della prima fase delle BR e non le seconde BR 70 1970 e 71 esatto Feltrinelli era un riferimento Feltrinelli qui vorrei introdurre dei nuclei diciamo investigativi nuovi rispetto alle ricostruzioni precedenti inizia a comparire sulla scena internazionale con alcune azioni eclatanti che finora non sono mai state collegate direttamente a lui se vuoi ne parliamo no 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 stavo per farti proprio questa domanda prima di arrivare alla dimensione interna di Feltrinelli chiudiamo il capitolo delle relazioni internazionali citando queste novità che emergono dalla tua inchiesta due episodi particolarmente importanti uno è ad Atene e l'altro è in Israele di Rare il primo prego il primo temporalmente si colloca nel giugno del 70 ad Aifa quando un giovane ticinese imbottito di esplosivo arriva con una motonave da Venezia viene fermato viene perquisito viene scoperto con questo carico di esplosivo destinato a far esplodere la Shalomire Tower che era un alto grattacielo costruito cinque anni prima una sorta di torri gemelle del Medio Oriente e viene arrestato e sbattuto in carcere torturato per sette anni e costretto diciamo a narrare il suo network eversivo allora lì io trovo un'indicazione di una brava giornalista Claire Sterling che aveva rapporti con la CIA con l'MI6 io ho intervistato a lungo il figlio Luke che sta a New York e la Claire Sterling che è stata a lungo in Italia avendo sposato un italiano scrisse che il mandante di questo attentato progetto di attentato era proprio Gian Giacomo Filtrinelli allora chi è che lo dice? Claire Sterling che scrive il libro The Terror Network che è stato considerato uno dei libri più importanti nel quale dedica un capitolo intitolato Filtrinelli The Patron cioè Filtrinelli il regista il patron del terrorismo internazionale e attribuisce a lui questo progetto di attentato tramite questo giovanissimo Bruno Breguet che all'epoca era un ticinese ventenne innamorato del mito di Che Guevara io e Valtolina siamo riusciti con molta fatica a metterci in contatto col fratello Ernesto che vive sempre lì dalle parti di Ascona in Ticino e la conferma diciamo dei contatti è stata sorprendente perché dice Ernesto Breguet mio fratello Bruno non solo conosceva Filtrinelli ma Filtrinelli era il suo mito perché Filtrinelli pubblicava la rivista Tri Continental nata dalla conferenza omonima di Cuba nel 66 alla quale era presente Filtrinelli ma alla quale era anche presente incredibile lo stesso anno nel 66 17enne il giovane Carlos il futuro Carlos lo sciacallo cioè Illich Ramirez Sanchez questo giovane anche lui ricchissimo venezuelano che poi diventerà il super terrorista più famoso il fratello di Breguet ci conferma questi rapporti ci conferma questo network italo-svizzero ma poi ad affermare che Filtrinelli è il mandante è anche un documento interno di quello che era chiamiamolo il servizio segreto del PC che io e Valtolina siamo riusciti a ritrovare dentro gli atti giudiziali quindi una carta che è inallegato nel libro ad affermarlo e poi la commissione stragi che attribuisce questa iniziativa di Breguet di AIFA che andava ben oltre le possibilità di un ragazzotto ticinese di relazionarsi ed è il primo terrorista europeo a finire nelle carceri israeliane dopo lui si arruarerà nel gruppo di Carlos scomparirà misteriosamente nel nulla pare rapito durante un abduction una storia misteriosa una storia un mistero nel mistero il secondo episodio che viene collegato ormai a Filtrinelli è l'attentato di Atene del settembre lo stesso anno del 1970 lì due giovani situati a Milano la Maria Elena Angeloni che era una correttrice di bozze e un greco cipriota Cristuris che era studente all'università faceva parte di quel nucleo che si opponeva al regime dei colonnelli organizzano un attentato dinamitardo all'ambasciata americana di Atene con un maggiolino carico di esplosivo guarda caso il timer che usano è un orologio lucerne modificato che l'unica volta nella storia in cui è stato usato è stato nell'attentato di Segrate cioè solo due volte lo scrivono i magistrati questa non è diciamo un'indicazione mia viene trovato questo orologio lucerne come come timer esplosivo questo attentato è stato però anche attribuito al giro Simeoni tanto che Curcio ruppe con Simeoni proprio perché Simeoni voleva coinvolgere la sua compagna Mara Cagol lui si oppose e fu trovata questa povera Maria Elena Angeloni di cui io ho intervistato il figlio che sta a Londra e che racconta tutto il set delle frequentazioni della madre che erano trasversali al mondo editoriale in cui nuotava lo stesso Simeoni che era uno studioso di Pirandello inizialmente in cui si muoveva Feltrinelli stesso e quindi anche lì sempre la Sterling indica Feltrinelli come mandante anche di Atene ma alla stessa conclusione arrivano magistrati arrivano consulenti della commissione stragi e quindi anche questo resta un capitolo scusami se ti interrompo ma è un punto delicato ti devo chiedere se puoi citare le altre fonti oltre alla Sterling che collegano Feltrinelli all'attentato all'ambasciata americana di Atene ci sono gli atti della commissione stragi che dedicano proprio un apposito capitolo all'attentato di Atene dicendo che gli ideatori dell'attentato sono da un lato Corrado Simeoni e dall'altro Gian Giacomo Feltrinelli questo viene detto in maniera chiara viene citato anche il lavoro del magistrato Mastelloni su alcuni temi insomma vi è questa indicazione molto molto specifica da questa doppia fonte ma anche da una terza fonte che sono i documenti del PC cioè è noto che il rapporto tra Feltrinelli e il PC sostanzialmente non si interruppe mai perché da un lato Feltrinelli coltivò l'ala militare il movimentista del PC che faceva capo a secchia fino alla fine ma dall'altro il PC seguiva molto attentamente Feltrinelli perché era stato finanziato pesantemente perché Feltrinelli era una figura di riferimento per molti ambienti del PC quindi le carte segrete chiamiamole le carte interne del PC anche qui purtroppo collegano in maniera chiara Feltrinelli sia Breguet che al caso di Atene ma addirittura stabiliscono e anche questa è una cosa inquietante che per ora resta allo stadio di una pista investigativa ad eventi e dirottamenti terroristici in suolo elvetico ricordiamo che la Svizzera nel 69 e nel 70 fu oggetto di attacchi palestinesi importanti e quindi questa carta dà un'indicazione inquietante che andrebbe tutta questa verificata scavata infatti sono in collegamento con due colleghi svizzeri che stanno compiendo ricerche in questa direzione e esistono anche degli atti diciamo di intelligence svizzeri però diciamo al momento però resta una ipotesi sulla quale stai lavorando diciamo che si basa su indizi anche robusti ma diciamo è ancora un'ipotesi sbaglio o ci si può spingere oltre sulla base degli elementi che hai ma diciamo che le evidenze relative alla rete svizzera sono di fettinelli sono imponenti io per esempio ho intervistato l'ex terrorista Giorgio Bellini che conferma la rete svizzera Bellini non dimentichiamolo fu l'uomo che venne incaricato di andare da Carlos lo sciacallo con cui lui aveva contatti per chiedere a Carlos lo sciacallo di dissuadere le brigate rosse dall'uccidere Moro e questo me l'ha confermato anche lui in persona oltre che figura come sai negli atti parlamentari c'erano due figure come questo Franco Marinoni che poi è morto suicida e come la la Verena Vogel che invece è ancora viva ma ha rifiutato l'intervista che erano intestatari di società fiduciare di Feltrinelli che a loro volta possedevano abitazioni che poi diventarono covi terroristici non solo dei gap di Feltrinelli ma che poi transitarono come il covo famoso di Via Subiaco direttamente alle brigate rosse no? E anche questo è tutto agli atti quindi da lì a spingersi all'attribuire a Feltrinelli e anche la campagna di attentati che colpirono alla Svizzera questo è un passo molto delicato che sul piano investigativo non mi sento ancora di fare tuttavia fermiamoci qui e fermiamoci qui magari ci diamo appuntamento diciamo alla alla prossima una volta successiva diciamo quando volevo citare per fare il corollario diciamo della dimissione internazionale un terzo fatto anche quello ormai ampiamente acclarato l'attentato l'uccisione nel 71 del console Quintanilla a Damburgo questo non è un fatto da poco allora Quintanilla era il militare boliviano che interrogò e mise sotto torchio personalmente Fettrinelli e la neocompagna Sibilla Melega ma era anche colui che aveva dato l'ordine materiale di uccidere Che Guevara due mesi dopo che Fettrinelli era lì nel settembre del 67 di fargli mozzare le mani da esibire come trofeo come prova della morte del guerrigliero steso sul tavolo dell'obitorio un po' come il Cristo del Mantegna Fettrinelli continua a coltivare un desiderio di punizione un'azione simbolica contro Quintanilla e incarica una giovane tedesca che però era figlia di emigrati in Bolivia la Monica Hertel dell'uccisione di Quintanilla divenuto nel frattempo console ad Damburgo gli dà delle sue pistole e questo è agli atti giudiziari ci sono i numeri di matricola c'è il posto dove queste pistole sono acquistate da Fettinelli e questa questa Hertel nel 71 va spara e uccide Quintanilla e dopo anche altre deposizioni del gruppo della Hertel diranno che dietro a quel lato lì c'era c'era l'editore quindi diciamo che a poco a poco Fettinelli compie diciamo un salto di qualità molto importante perché in Italia a rapporti con le BR si interessa del terrorismo altoatesino per esempio io ho intervistato la vedova di Sandro Canestrini l'avvocato di Trento di Fettinelli che lo difese in varie cause e lei stessa racconta che lui voleva i numeri di telefono dei terroristi altoatesini che avevano fatto gli attentati dei tralicci perché gli piacevano anche quelli in chiave redentista si interessa del banditismo sardo a rapporti con la banda con la banda genovese della 22 ottobre che però aveva anche quelli elementi di infiltrazione della banda Vandelli che era un neofascista un po' strano ma soprattutto in quella fase lì c'è un altro grande filone investigativo forte in questo lavoro che sono i rapporti con il mondo dell'estrema destra cioè nel senso che lui aspetta Felice prima di parlare di questo filone ti vorrei girare due domande alle quali puoi dare anche risposte telegrafiche se vuoi una è di Roberto spero di non purtroppo i caratteri sono molto piccoli e non riesco a leggere allora Roberto Valpolina che tu hai citato prima ecco lui dice che Feltrinelli e Dotti Roberto e Dotti che noi non abbiamo citato nessuno ha citato Roberto Dotti noi abbiamo parlato di ambienti fuggiati italiani in ciecoslovacchia ce n'erano centinaia non c'era solo Roberto Dotti ma comunque lui dice che Roberto Dotti e Feltrinelli si conoscessero non ci sono prove Roberto Dotti per chi non lo sa era un ex comunista partigiano del filone insurrezionalista quindi secchiano coinvolto in episodi all'inizio degli anni 50 in episodi di in episodi di violenza politica e poi fuggito con l'aiuto del partito a Praga e a Praga ha rapporti con l'intelligence l'intelligence ciecoslovacca rientra in Italia e in Italia va si pente e va a lavorare con Edgardo Sogno ecco questo per Edgardo Sogno sapete tutto chi è questo per inquadrare la figura di Roberto Dotti ecco allora questa domanda su i legami tra Feltrinelli e Dotti anzi più che una domanda è un'affermazione non ci sono prove tu confermi o smentisci ma immagini che tu confermi visto che hai lavorato insieme a Roberto certo sì sì no confermo questa questa indicazione e comunque diciamo che Feltrinelli aveva costruito come dire una propria counter intelligence nel senso che lui aveva anche elementi che potevano poi come Dotti avere anche informazioni essendo poi passati ad ambienti diciamo sostanzialmente atlantici questo vale anche per la figura che poi incontreremo parlando della morte di Carlo Fumagalli che era una bronze star degli americani durante la resistenza che poi diventò il fondatore del movimento azione rivoluzionaria cioè Feltrinelli coltivava anche a destra diciamo dei rapporti interessanti lo stesso giudice Salvini ci ha confermato che nei rapporti col famoso conte Loredani Treviso che era un uomo diciamo del giro Frede Ventura era anche definito il conte russo perché era ambivalente un personaggio ambivalente c'è questo Alberto Sartori anche lui figura strana scavalco tra servizi destra sinistra non si capisce se è infiltrato di ambienti di destra nel gruppo di Feltrinelli c'è una c'è un'informativa del controspionaggio del centro di Padova del controspionaggio che dice che addirittura Sartori era il numero due dei gap di Feltrinelli poi ci sono i rapporti con Ventura che tornano anche lì fuori ed è inquietante a ridosso della strage di Piazza Fontana altro nodo Giovanni Ventura presentiamolo perché magari tra gli amici che ci ascoltano c'è chi anche gli adolescenti che non ricordano chi fosse Ventura puoi dirci brevemente chi era Giovanni Ventura Giovanni Ventura era diciamo una sorta di piccolo editore stampatore Veneto collocabile diciamo in quell'area che veniva denominata dei nazi maoisti cioè persone con estrazione varia a volte anche socialista che poi erano confluiti diciamo in una destra chiamiamola sociale che guardava con simpatia all'estrema sinistra ecco in questo ambito va collocato anche lo stesso Freda io ho intervistato Freda c'è una lunga intervista nel libro a lui ma anche alla sua ex compagna Anna Valerio che ha scritto un bel libro non ci sono innocenti che ha ricostruito con me quel milieu culturale particolare di quel tipo di destra che guardava con simpatia all'estremismo di sinistra nel nome di una comune causa antisistema antistato nel nome di una comune strategia tesa a portare lo stato borghese alle estreme conseguenze e da lì a scatenare una chiamiamola rivolta popolare una resistenza di massa e che cosa dice Freda a proposito di una figura come Feltrinelli beh Freda innanzitutto conferma la paternità di questi suoi scritti che io ho citato in cui lui poi sembra proprio rivolgersi a Feltrinelli proclama un'unità di intenti forte un tratto di strada insieme dopodiché ognuno prenderà la sua strada scrive con l'estrame sinistra lui dichiara di essere stato affascinato dalla figura di Feltrinelli e che però dopo con Feltrinelli non è stato possibile giungere a delle intese operative forti c'è da dire che sono interviste molto difficili perché l'uomo essendo stato accusato di vicende molto gravi è molto cauto nel parlare però devo dire che ha confermato questa questa cosa diciamo di questo rapporto tra gli opposti estremismi lo ha confermato in pieno totalmente ha detto che è una lettura assolutamente corretta lo stesso ha fatto lo storico Giorgio Marenghi con noi che ha prodotto anche documenti molto interessanti in materia lo stesso ha fatto Maurizio Fiorentini altro storico con una lunga esperienza anche di militanza sinistra quindi questo discorso che è un tabù della storiografia e del giornalismo d'inchiesta italiana è un discorso che emerge in maniera molto forte in tutto la vicenda Feltrinelli e addirittura si spinge fino a Piazza Fontana perché noi sappiamo che Feltrinelli va in una latitanza diciamo addirittura esibita sbandierata una settimana prima della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69 pur non essendo ricercato non essendo indagato non essendoci alcun mandato di cattura lui lui decide di porsi in clandestinità una scelta che ha turbato tanti compagni che ha sollevato delle domande ci si è chiesti come mai giudice Salvini che certamente non può essere scusato di essere un magistrato di destra ma anzi con simpatie piuttosto chiare dice ma probabilmente Feltrinelli sapeva che doveva succedere qualcosa di molto brutto qualcosa di pesante voleva mettersi a salire ti fermo qui perché qui rischia di diventare troppo scivoloso il terreno un momento allora però diciamo forse forse bisognerebbe contestualizzare una scelta estrema come quella di Feltrinelli di passare alla clandestinità alla vigilia della strage di Piazza Fontana nel quadro dell'epoca in cui a sinistra quasi tutti diciamo davano per imminente un colpo di stato militare organizzato dalla estrema estrema destra tant'è che in quel periodo dove c'erano i dirigenti comunisti che non dormivano mai due sere nella due notti nella stessa casa ecco quindi quindi il clima era un po' quello diciamo per cui questa scelta di Feltrinelli si può spiegare anche alla luce di quella ma non c'è dubbio di quella sindrome del golpe che c'era allora Feltrinelli aveva scritto diciamo come dire dei piccoli opuscoli persiste il colpo di stato diciamo che il colpo di stato era una delle sue ossessioni una delle sue convinzioni in parte anche fondate visto diciamo il tentativo poi dopo abortito del golpe borghese lui si sentiva già forse anche minacciato in pericolo ed era sicuramente vero che era attenzionato anche un recente documentario trasmesso dalla RAI in tardissima serata adesso per i 50 anni della morte di Feltrinelli ha pubblicato un footage diciamo un pezzo inedito delle Techerai che addirittura risaliva mi pare al 67 al 65 addirittura un filmato rarissimo dei servizi italiani che spiavano i movimenti di Feltrinelli quindi dire che Feltrinelli era attenzionato e che si potesse sentire in pericolo è altrettanto legittimo però ci sono anche altri elementi che per esempio sono stati sollevati da Paolo Cucchiarelli relativamente a diciamo anche al discorso della matrice anarchica o alla possibile tra le varie tra le varie tesi che si combattono ancora oggi su Piazza Fontana la possibile matrice anarchica della non mi addentrerei troppo diciamo in un filone che è ancora ancora nel campo veramente nel campo delle delle ipotesi invece resterei molto ancorato al tuo lavoro di di indagine che è molto ricco sono letto il tuo libro è molto ricco di documenti e di e di testimonianze allora però questo nodo di Piazza Fontana è sicuramente un nodo interessante perché ci sono due diciamo chiavi di lettura che si contrappongono in relazione alla nascita anche del terrorismo di sinistra c'è un per esempio una prima lettura secondo la quale è Piazza Fontana che innesca anche la violenza di sinistra per reazione e c'è invece un'altra chiave di lettura opposta in qualche modo che dice no non è vero che ma questa anche a sinistra non è vero che Piazza Fontana che innesca il terrorismo la violenza di sinistra perché c'era stata una fase di incubazione durata diversi anni prima della strage di Piazza Fontana del 1969 quindi diciamo che a sinistra ci si era già preparati all'evento non all'evento della strage di Piazza Fontana all'evento della della scelta estrema della lotta armata ecco tra due tra queste due chiavi di lettura secondo te qual è quella più credibile dal tuo punto di vista in base agli elementi che tu hai raccolto tu eri assunto diciamo da maestro quale sei le due come dire principali chiavi di lettura storiografica investigativa di un fenomeno così complesso come Piazza Fontana la madre chiamiamola di tutte le strage appunto una chiave che la legge come elemento cardine di una strategia della tensione portata avanti da elementi dei cosiddetti servizi deviati da elementi atlantici ambienti neofascisti per scatenare come dire un coagulo verso il centro che danneggiasse politicamente le estreme questa è la chiave di lettura classica poi c'è una chiave di lettura più eterodossa che invece legge in Piazza Fontana come un attentato andato male nel senso che l'obiettivo di Piazza Fontana non doveva essere quello di fare tutti quei morti ma di fare un'azione contro una nota banca la Banca Nazionale dell'Agricoltura poi il timer sarebbe stato diciamo sbagliato sarebbe stato diciamo un setting tutto errato anche nella scelta dell'orario e di qui la strage ora certamente come dici tu questa non è la sede per però mi limito a segnalare un fatto che su un piano puramente documentale però è interessante è noto il fatto che uno diciamo degli autori della strage di Prima Valle dei fratelli Mattei Maglio Grillo è ancora vivo oggi in Nicaragua questo Grillo anni fa ha fatto delle confidenze a una signora avvocatessa torinese Solange Manfredi che sono state raccolte in bobine in cui lui là in Nicaragua parlava con grande libertà di tanti elementi queste bobine sono state consegnate perché riguardavano ovviamente anche i fratelli Mattei alla magistratura italiana sono state trascritte da Ross sono state affidate al magistrato Luca Tescaroli e io sono riuscito diciamo a ottenere un paio di pagine una relativa a Feltinelli e una relativa a Piazza Fontana ed è curioso che Grillo in piena libertà dal suo rifugio dal suo puerto scondito di Nicaragua dice che a mettere la bomba fu Valpreda però legge Valpreda come un anarchico che aveva dei contatti dei rapporti pericolosi con ambienti di estrema destra lo stesso lo dice vinci guerra dal carcere re ho confesso della strage di Peteano che addirittura parla del passato di Evanguardia Nazionale di Valpreda ma poi noi abbiamo un'altra testimonianza esclusiva di una signora che c'è nel libro ma non ha mai essere citata che ha trascorso 30 anni a Parigi che lavorava nella controinformazione di lotta continua la quale racconta che una controinchiesta delle Brigate Rosse come quella che le BR condussero per esempio anche su Feltrinelli ma esisteva una controinchiesta che però non è mai stata ritrovata su Piazza Fontana la controinchiesta la controinchiesta delle BR concludeva che a mettere la bomba parlo di posizionamento materiale era stato Valpreda però non voglio spingermi oltre perché non è come dire la mia materia non è il focus del mio libro quindi mi limiterò è sì diciamo anche perché insomma a me sembra che gli elementi dopodiché ognuno io ho delle opinioni su questo ma sono le mie opinioni e tali restano invece il tuo lavoro è un lavoro molto serio basato su documenti e testimonianze per cui c'è l'ipotesi che Valpreda fu lui a mettere la bomba a Piazza Fontana cioè io diciamo andrei un po' più caldo però si può dire un'altra cosa no no ma adesso non dicevo tu l'hai preso l'hai presa molto con le pinze giustamente molto con le pinze esatto però ecco una cosa che sul piano storiografico diciamo ha sicuramente una una sua soludità è che c'è un filone storico di anarchismo spuglio diciamo così di anarchismo spuglio che lavora che lavora accanto all'anarchismo puro ecco se vogliamo usare queste queste due categorie e e i gruppi di anarchici spuri e beh insomma c'è tutta una tradizione che parte dai primi del novecento e si inoltra fino non dico ai giorni ma potremmo anche dire fino ai giorni nostri se se parliamo di 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 alcune frange del del radicalismo di estrema sinistra di oggi quindi anarchici spuri che consapevolmente o inconsapevolmente insomma lavoravano anche per i re di prussia diciamo diciamo così ecco questo questo si può dire ma da chi a dire che valpreda fu eccetera ce ne corre io ti vorrei girare una dimmi prego prego felice no 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 è una discussione quindi è giusto volevo apportare un ulteriore stimolo anche questo altamente problematico mi rendo conto quindi da trattare con con tutte le cautele possibili immaginabili di critica di autocritica di rispetto che però hai connesso intimamente al mistero di piazza fontana cioè il fatto che nel 71 Oreste Scalzone uno degli elementi più importanti di potere operaio che vive tuttora a Parigi che io ho lungo incontrato intervistato rilascia una dichiarazione molto grave dicendo che Feltrinelli voleva la morte del commissario Calabresi era diciamo il vero mandante dell'omicidio Calabresi allora io ho sentito chi è che dice questo chi è che lo dice Oreste Scalzone potere operaio perché non lo va a dire tribunale la mia è una provocazione ovviamente cioè Feltrinelli ma certo io stesso prego dimmi dimmi io stesso ho sentito il dovere di chiedergli conto di un'affermazione così grave che giustamente ha fatto inviare anche il figlio di Feltrinelli che ha provocato una giusta e dura e doverosa reazione del figlio di Feltrinelli ma all'epoca Scalzone non smettì ma io sono andato diciamo a cercarlo l'ho intervistato per molte ore su questo e su molti altri aspetti della vicenda Feltrinelli essendo lui diciamo un intimo amico all'epoca di Feltrinelli una delle figure a lui più vicine e lui sostanzialmente confermava questa indicazione che lo voleva che voleva che fosse rapito sequestrato poi ma la cosa più inquietante si dimmi un ultimo elemento poi mi taccio la cosa più inquietante che emerge anche da altre testimonianze è l'indicazione che non dà però solo Scalzone la dà sostanzialmente anche Franceschini è che l'omicidio di Calabresi non matura tanto come vendetta alla morte di Pinelli episodio che tutti noi conosciamo la caduta della finestra ridosso delle indagini su Piazza Fontana eccetera eccetera la morte di Calabresi di Calabresi questo comunque è un dato di cronaca fattuale avviene avviene nel maggio del 72 due mesi dopo Fettrinelli avviene avviene a quasi tre anni di distanza però da Piazza Fontana quindi un elemento diciamo di inquietudine nella ricostruzione di queste testimonianze che ho raccolto sta non solo nel fatto di vedere un set diverso rispetto a quello Soffri Bonpressi Pietro Stefani e qui vengono chiamate in causa altre figure a diciamo contestare la versione diciamo Soffri Bonpressi Pietro Stefani ma soprattutto le motivazioni in cui matura l'omicidio Calabresi vengono lette da questi testimoni che ho sentito in una chiave diversa che a me sembra purtroppo abbastanza credibile in particolare il fatto che Calabresi avessi indagato a lungo su Piazza Fontana per esempio che Calabresi indagasse su traffici di armi che provenivano cioè che erano destinati ad attività avversive cioè Calabresi comunque era un fior di come dire investigatore era il numero due dell'ufficio di Allegra come ben sai ed era un ispettore di polizia estremamente capace estremamente valido quindi la tesi della storiografia ufficiale che Calabresi viene ucciso a freddo quasi tre anni dopo la vicenda di 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 rivista un po' seriamente sul piano storiografico lascia spazio eh quantomeno a delle domande ma eh diciamo ecco che tutti questi questi grossi misteri sono intrecciati in qualche modo al mistero Feltrinelli nel senso che ci riportano come dire alla complessità dell'uomo che pur essendo animato da motivazioni ideali molto alte perché lui miliardario lotta per gli oppressi lui miliardario che si occupa dei diseredati lui miliardario che quando c'è da stare con i giovani attivisti questo come l'hanno detto gente anche ex BR come buona vita se c'era da se c'erano tre persone e due letti lui era quello che dormiva per terra lui è quello che scrive al figlio ho fatto tutto questo per lasciarti un mondo migliore per lottare contro l'ingiustizia quindi insomma bisogna come dire dare atto e questo io l'ho fatto nell'introduzione anche nelle conclusioni delle motivazioni ideali dell'uomo dell'editore del rivoluzionario della sua autentica devozione a una causa diciamo internazionalista operaista anche di di mutamento diciamo dei rapporti di potere tra classi sociali è stato uno dei primi a teorizzare la settimana corta il fatto che non bisognasse lavorare al sabato tutte conquiste ormai scontate ma che per l'epoca non lo erano ecco teorizzare l'avvicinamento alla lettura delle masse popolari quindi è stato indubbiamente una figura animata da sentimenti sicuramente autentici perché poteva farsene il miliardario poteva fare il miliardario tra New York e la Costa Azzurra voglio dire invece è andato a morire su un traliccio quindi bisogna rendere come dire onore alla coerenza dell'uomo tuttavia questo secondo me non deve impedire uno sguardo più ampio che affronti la complessità della sua vita che per conto mio è la complessità del contesto è la complessità del contesto della guerra fredda del contesto della guerra fredda e la complessità della sua vita e poi secondo me è poi all'origine della sua morte ma di questo poi ne possiamo parlare quello che anche ho trovato in queste carte inglesi che a te sicuramente fanno gola è proprio l'indicazione in questo documento inglese dice Feltrinelli aveva un network versivo terroristico proprio personale costruito da lui personalmente attraverso i rapporti internazionali che metteva al servizio di diverse cause e poi c'è una parola c'è proprio the cult of violence parla di cult of violence insomma l'espressione mi pare chiara e dopo questo documento a un certo punto il documento scusa Perruccio che documento è? è un documento che io ho ricevuto dagli archivi a cui fai riferimento anche tu no no dico che la fonte che lo ha originato la fonte è un rapporto diciamo da agenti inglesi operanti in Italia mandati chiaramente mandato ai servizi inglesi ok ecco e poi c'è un curioso è un riferimento finale a episodi di terrorismo palestinese un riferimento apparentemente slegato però è curioso che alla fine di questo di questo brano poi dovrò effettuare ulteriori approfondimenti naturalmente perché non sono approfondimenti facili come sai meglio di me avendo ecco c'è un riferimento palestinese anche questo è una cosa che suona come una conferma di determinati rapporti e se lì lo vogliamo toccare poi adesso qui c'è tutto il nodo di quali servizi monitoravano Feltrinelli beh allora innanzitutto appunto abbiamo detto della CIA che mi seguiva le tracce questo risulta da carte della CIA pubblicate sicuramente almeno dal viaggio del 59 e certamente dal viaggio dei viaggi del 65 in poi ci sono pubblicati persino sul sito della CIA tutte le lettere di spacci relativi alle richieste di Feltrinelli di visti di ingresso lui era del PC eccetera eccetera aveva però pubblicato Givago in quel momento veniva visto con un certo favore e quindi c'è tutta l'attività della CIA che prosegue con Castro con la Bolivia insomma che continua nel corso del tempo poi ci sono chiaramente i servizi israeliani perché è evidente che un uomo che sosteneva l'attività filo palestinese non poteva non essere oggetto di attenzioni e qui a Milano operava come capo stazione del Mossad mi stupirei del contrario mi stupirei del contrario è ovvio anche io penso che facciano i loro mestieri mi pare difficile che un uomo insomma di quel potere di quella ricchezza con mezzi pressoché limitati che si spinge così tanto sul terreno filo palestinese non si è osservato con grande attenzione e qui a Milano stava addirittura dal 47 Mike Carari che poi è l'uomo che guida la famosa operazione vendetta dopo la strage di Monaco del 72 cioè non ci stava uno qualsiasi un agentucolo da niente ci stava una super spia un super agente operativissimo del Mossad che è l'uomo che poi dopo come racconta bene il film Munich di Steven Spielberg inizia la caccia ai terroristi palestinesi presunti autori della strage di Monaco o loro fiancheggiatori no? ed è curioso che il libro di George Jonas da cui è tratto il film cioè appunto vendetta tra cita proprio Expressis Verbis Fettrinelli tra i fiancheggiatori io ce l'ho qua c'è un passaggio tra i fiancheggiatori di? tra i fiancheggiatori del terrorismo palestinese cita Fettrinelli con nome e cognome dice un ricco miliardario playboy lo definisce che fiancheggiava il terrorismo palestinese ora Mike Harari è appunto una figura di altissimo spessore di intelligence che operava qui a Milano che si è sposato a Milano ha avuto figli a Milano nipoti andava alla scala è stato intervistato da Eric Salerno il nostro collega romano che ha scritto MOSSAD interessarsi di Fettrinelli e in questo senso è fondamentale un'intervista che ha realizzato per me Andrea Ceresini un giovane bravo collega che si è recato a trovare in Sudafrica il generale Giannadello Maletti ufficiale dei servizi ma anche ufficiale di collegamento con il MOSSAD che per i problemi giudiziari avuti relativamente alle stragi di Piazza Fontana e Piazza della Loggia era della filiera filo-israeliana dei nostri servizi diciamo esattamente era la filiera diciamo non quella filo-araba contraposta a quella del generale Micelli che invece era la filiera come dire mediterranea mediterranea filo-araba che comprendeva figure un giovanone eccetera eccetera invece appunto Maletti era si può dire l'uomo del Mossad nei servizi italiani no sì Maletti a un certo punto si rifugia in Sudafrica il Mossad gli costruisce una super villa protetta e questo collaboratore nel 2012 nell'ambito di un libro proprio sulle stragi Piazza Fontana Piazza della Loggia va là so che va là gli dico per cortesia intervistami Maletti proprio su Feltrinelli specificamente con tanto di videoripresa e questo Ceresini gli va lì gli porta la lista delle mie domande e Maletti dice ma io ritengo che la morte di Feltrinelli sia stata un booby trapping cioè una trappola esplosiva organizzata per farlo saltare e io gli chiedo ma gli israeliani avevano le competenze sì sì i migliori sul campo a livello mondiale erano e sono loro nell'uso degli esplosivi quindi quindi visto che hai introdotto il tema della fine di Feltrinelli che è un altro dei temi controversi altri dei grandi controveri preferisco misteri è una categoria quella del mistero che a me non piace io detesto quindi se è un mistero è meglio non parlarne però diciamo di chiavi di lettura sì qui ci sono anche qui come per Piazza Fontana ci sono due chiavi di lettura contrapposte quindi c'è una che dice che morì mentre stava preparando un attentato e c'è un'altra che invece dice no fu un attentato simulato quindi fu assassinato queste sono due chiavi di lettura secondo te ma sulla base dei risultati della tua inchiesta quindi delle tue testimonianze dei tuoi documenti di tutto ciò che tu hai raccolto quale di queste due chiavi di lettura ti sembra più vicina alla realtà allora premesso che io di natura non sono un complottista anzi sono anche un complottista ma partiamo innanzitutto dalla dichiarazione della Sissanghe Fettrinelli che anche in un'intervista prima di morire ad Addo Cazzulo del Corriere dice che è stato un omicidio una simulazione una cosa organizzata eccetera eccetera il figlio Carlo è parso molto molto interessato infatti molte fonti che ho incontrato anch'io poi ho scoperto che le aveva già incontrate lui è rimasto parso più prudente pur senza escludere la tesi omicidiaria entrambe le tesi diciamo hanno una loro valenza una loro una loro forza perché è indiscutibile il fatto che Fettrinelli desiderasse compiere degli attentati l'ambulanza sta venendo a prendersi come? si sta venendo a prendersi l'ambulanza sono venuti a prendersi no no scusami scusami no no figurati dicevo che è indiscutibile il fatto che Fettrinelli volesse compiere degli attentati anche perché poco prima del fatidico 14 marzo 72 le BR avevano effettuato il sequestro Macchiarini che aveva avuto un'enorme notorietà internazionale quindi lui si sentiva indubbiamente chiamato ad agire ci sono le lettere sue a Franco Piperno che ho anche intervistato Piperno che chiedono un'unificazione degli stati maggiori militari li chiama così Fettrinelli dei comandi militari perché era una sorta di esercito di liberazione quindi che Fettrinelli intendesse passare a una fase operativa questo mi pare assodato è indiscutibile sul piano storiografico cosa poi si è successo a Zegrate è oggetto di un ampio dibattito che io analizzo molto a fondo sulla base degli atti io tiro fuori una perizia medico-legale che sostiene che Fettrinelli aveva una ferita alla nuca pregressa all'esplosione una ferita da corpo contundente non compatibile con l'esplosione al traliccio quindi che lui scusami Ferruccio questo vuol dire scusami Ferruccio questo vuol dire che era stato colpito prima secondo questa perizia medico-legale ovviamente ovviamente da due luminari dell'epoca tra cui uno era il professor Fornari che si era occupato del caso Calvi insomma professore di rilievo questa ferita posteriore sul cranio non è compatibile né con la caduta dal traliccio né con l'esplosione è una ferita pregressa che presume che lui possa essere stato colpito poi fatto saltare con una carica e e ci sono poi altre incongruenze molto importanti c'è l'incongruenza famosa del timer al quale stranamente viene tolta la lancetta delle ore ma non quella dei minuti per fare contatto con il momento in cui doveva esplodere appunto la bomba riducendo di molto lo spazio di operatività di Feltrinelli sotto al traliccio c'è il mistero delle mani ci sono le fotografie agli atti completamente intatte quando pare normale ritenere che chi maneggia dell'esplosivo perde immediatamente le mani allora è stato sostenuto che lui l'esplosivo in realtà lo tenesse raccolto tra le gambe situato in una pericolosa posizione a cavalcioni sul traliccio poi c'è il mistero di chi abbia preparato questi timer nel senso che Feltrinelli era notoriamente aveva una vista bassissima poverino cioè proprio portava delle lenti come dei fondi di bottiglia quindi pare difficile pensare che li avesse preparati e che fosse in grado di gestire dei timer collegati a delle pile a delle cariche esplosive molto potenti in una notte di sera di notte con la pioggia nella campagna lì di Segrate quindi anche questo solleva dei dubbi importanti i suoi occhiali stessi non furono mai ritrovati sulla scena dell'esplosione diciamo che ci sono tante incongruenze molto importanti che hanno fatto supporre hanno fatto ipotizzare anche a fior fior di magistrati tra cui per primi ho intervistato il PM Guido Biola che condusse l'inchiesta e lui stesso sia negli atti che con me diciamo non esclude la pista una pista diversa e dice che la sua inchiesta fu viziata da pressioni fu viziata dall'azione dei carabinieri di via Moscova i quali a loro volta erano guidati dal generale Palumbo e dal maggiore Pietro Rossi che sono figura che poi inquadriamo il generale Palumbo era della filiera cattiva dei carabinieri all'epoca era la filiera piduisca mentre il maggiore Pietro Rossi come se è meglio di me era un ufficiale del cosiddetto anello questo servizio segreto parallelo che poi diventerà un altro ufficiale del Siste peraltro Pietro Rossi quindi ci sono queste incongruenze c'è il giudice Bevere che anche questo l'abbiamo intervistato che viene sollevato dalle indagini proprio pare suppressioni dei carabinieri di via della Moscova c'è la intervista Mastelloni c'è la intervista il senatore Pellegrino diciamo che tutte queste fonti sollevano delle perplessità importanti che sono diciamo scavate molto a fondo in questo lavoro relativamente alle persone che attorniavano Feltinelli perché anche questo chiaramente è un'opera che ci deve fare interrogare che non è stato mai scavato allora chi c'era con Feltinelli c'era questo misterioso Gunther fa parte del doppio team diciamo di Ramitardo che doveva far saltare tra Licia a Segrati e a San Vito di Gaggiano questo misterioso Gunther che Oreste Scalzoni identifica in questo Ernesto Grassi che addirittura racconta Scalzoni di averglielo presentato lui nel lontano 69 quindi anche questo pone delle domande relativamente di nuovo ad Atene all'attentato di Atene per esempio dove c'è questo stesso timer Lucerne e Gunther viene indicato come operaio con competenze elettrotecniche fratello elettricista che potrebbe avere preparato lui questi timer che guarda casa hanno funzionato male e hanno fatto saltare Feltinelli a Segrate ma non a San Vito di Gaggiano ci sono due ragazzi uno identificato ormai con certezza in Mario Galluccio detto Gallo sull'altro l'identificazione resta più problematica c'è chi l'ha ipotizzato Enza Fontana che ha ipotizzato altre figure che però abbandonano Feltinelli sanguinante con una gamba in brandelli l'altra quasi amputata sotto il traliccio e poi scompaiono nel nulla e anche questo appare molto strano cioè che né diciamo né le forze dell'ordine né i servizi riescano a individuare questi due giovani attivisti e assicurarli alla giustizia e interrogarli sulle circostanze della morte c'è questo Gunther che aveva anche rapporti con la malavita persino rapporti con Valanzasca che chiede alle BR questo come sai lo racconta Franceschini chiede dei soldi per comprare dei Mitra dei Mab dice di avere la possibilità di comprare dei Mitra poi prende questi soldi e scappa c'è la cassetta di sicurezza di Lugano di cui Gunther e forse anche altri avevano le chiavi che viene ritrovata svuotata dei soldi insomma ci sono delle incongruenze molto 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 importanti diciamo nell'inchiesta certamente non c'erano gli strumenti di oggi non c'erano non c'erano le ricchezze di analisi del presente è stato anche ipotizzato qui potrà intervenire anche Maurizio Fiorentini che ha parlato con una fonte e ha detto ma guarda ma quello addirittura è stata un'esplosione telecomandata a qualcuno dei servizi gli ha messo un timer telecomandato e l'ha fatto saltare c'è chi dice che addirittura qualcuno dall'officina di Fumagalli possa avere colpito l'esplosivo che Feltrinelli teneva in mano ma comunque vicino a Feltrinelli nella preparazione c'era una strana figura che era Carlo Fumagalli che io ho profondamente scavato attraverso gli atti del processo di Piazza della Loggia nel processo di Piazza della Loggia ci sono delle deposizioni di un certo Giovanni Rossi che era uno della delinquenza comune che faceva il confidente di un carabiniere esperto in recupero di opere d'arte e questo Giovanni Rossi qui riporto i verbali dice Fumagalli faceva parte del gruppo di Feltrinelli era libro paga avevano insieme un gruppo terroristico si videro o il giorno prima o la sera stessa perché anche lì c'è un dibattito sulla data della morte chi la la gran parte della fotografia la colloca 14 ma ci sono degli elementi che fanno ritenere che possa essere avvenuta il 13 cioè la sera dell'incontro con Fumagalli per discutere di esplosivi quali elementi si sono Ferruccio ma c'è stato un ricercatore Eros Francescangeli che ha pubblicato diciamo dei documenti del SID diciamo delle chiamiamole delle informative che collocano la morte il 13 sera e non il 14 questo non è un fatto irrilevante perché il 13 è il giorno proprio dell'incontro in un hotel a Vimodrone con Fumagalli e altri due elementi vicini ad ambienti atlantici ma lo conferma indirettamente la Inge Feltrinelli nel film quando dice che loro avevano un appuntamento il 14 a Lugano da un notaio questo lo dice due volte la Inge nel film Inge prodotto dalla Feltrinelli cioè dice io e Gian Giacomo e Carlino dovevamo vederci per delle importanti pratiche notarili presso un notaio Lugano il 14 e lo dice sia in uno spezzone di intervista d'epoca subito dopo la morte che lo dice nell'intervista rilasciata quando è stato fatto il film cioè pochi anni fa questa cosa di fissare l'incontro del giorno dopo Lugano il 14 e non il 15 quale è stata poi la vulgata collettiva di tanti libri di grandi di altri eccetera ha una sua importanza perché sposta la data dell'evento esclusivo al 13 però il 13 è anche il giorno che viene fissato da questi testi come il giorno dell'incontro con questo strano Fumagalli il quale stando a giudice arcane scusami voglio inquadrare questa figura di Fumagalli perché diciamo noi che ci occupiamo di queste cose da decenni tendiamo un po' a dare per scontate delle informazioni che invece possono essere utili a un pubblico più giovane ecco chi era questo Fumagalli Fumagalli era diciamo semplificando molto un partigiano bianco cioè un partigiano diciamo anticomunista anche ferocemente anticomunista ferocemente anticomunista che si era distinto anche in diverse azioni nella fase finale della guerra e che era stato decorato anche con una medaglia degli americani per i suoi servizi si dice che poi abbia operato per conto della CIA in Yemen dopo diventa uno strano elemento diciamo di una sorta di estremismo atlantico di centro tra virgolette bianco fondando questi movimenti di azione rivoluzionare Eymar secondo le fonti che io ho sentito era diciamo una figura a scavalco tra mondo estremistico di destra mondi dei servizi mondi della questura milanese ho per esempio intervistato Piero Sella che è morto recentemente che che era certamente di super destra teneva la bandiera del terzo Reich in camera sua quindi certamente non era di sinistra e lui dice che Fomagalli gli aveva offerto i suoi servizi in occasione dei colpi borghese per il quale Sella è stato variamente vastamente inquisito e che lui l'aveva fatto seguire per due settimane e aveva capito che era un informatore della polizia che andava e veniva in continuazione lì della questura di via fate bene fratelli quindi Fomagalli è uno strano elemento che stando agli atti della commissione della commissione stragi e delle commissioni dei rapporti con la mafia e alle disposizioni del giudice Arcai aveva anche però rapporti con ambienti con ambienti diciamo della malavita del contrabbando persino della mafia a Milano tra cui Ligio con cui pare che abbia creato un'enoteca cioè era un come dire un personaggio ambiguo a scavalco che ha fatto anche vari anni di galera che però parlava con diversi mondi che pare che fosse anche in contatto col famoso Federico Umberto D'Amato altra figura a cui dovremmo forse dedicare due parole forse tu potresti illustrare per i pochi anzi ne approfitto per segnalarlo che c'è un bellissimo libro scritto da Giacomo Pacini ecco la spiglia esatto quindi lo consiglio a chi ci ascolta a chi è interessato ad approfondire la figura di Fumagalli può può trovare in quel libro che è stato pubblicato da Inaudi c'ha molte molte informazioni beh D'Amato comunque aveva un'ossessione vera e propria per Feltrinelli perché fece pubblicare questo questo livello Feltrinelli guerrigliero impotente che noi io e Valtolina siamo riusciti a recuperare integralmente ed è un testo più interessante di quanto è stato scritto fino adesso è stato detto che era un brogliaccio buttato giù da gente del bagaglino da pingitore a noi è sembrato un'indicazione assolutamente superficiale in atti giudiziari abbiamo trovato una frase dell'avvocato Giovanni Battista Lazagna carissimo amico di Feltrinelli legatissimo a lui che ha detto secondo me l'autore era reale cioè Eugenio Reale allora noi abbiamo scavato tu sai bene chi è Eugenio Reale a questa proposita si innesca una domanda che è lì in lista d'attenzione è una domanda molto interessante prima finisci concludi la risposta se non l'hai ancora chiusa e poi faccio giro la domanda di un di un nostro amico in ascolto prego prego ah posso c'è allora allora eccolo qua e però cari amici dovete fare delle domande più curte perché io non ci vedo più ho una certa età mi costringete allora è Davide Cardillo Davide Cardillo è un nostro amico che fa ricerca in Gran Bretagna per università inglesi e domanda dice Pinotti sa niente vi chiedo scusa se leggo piano ma devo cercare di mettere a fuoco sa niente a proposito del fatto che Feltrinelli abbia acquistato l'archivio di Angelo Tasca a prezzo irrisorio per poi consegnarlo a Palmiro Togliatti per acquisire bene Merenze agli occhi del PC grazie al regalo di Feltrinelli pare che Togliatti abbia potuto censurare molti passaggi imbarazzanti riguardanti il PC ecco insomma bella domanda è una domanda alla quale non so purtroppo rispondere e la considero come dire uno spunto di ricerca uno stimolo molto interessante mi sembra mi sembra plausibile l'ipotesi nel senso che una delle attività precipue di Feltrinelli era l'acquisizione di documenti importanti imbarazzanti compromettenti una vera attività di intelligence che aveva anche dei punti in contatto con la sua attività di editore parliamoci chiaro per esempio dagli atti giudiziari emerge che Feltrinelli abbia acquisito delle carte comprovanti il fatto che ci fosse un colpo di stato in preparazione con l'aiuto dei servizi greci traffici d'armi dalla Grecia all'Italia eccetera eccetera quindi se Feltrinelli avesse acquisito l'archivio Tasca e poi lo avesse regalato a Togliatti per evitargli situazioni imbarazzanti che effettivamente si sono verificate nella storia del PC e su questo tu Giovanni credo che puoi dire più di me non mi pare mi sembra un'ipotesi solida restante cosa ne pensi tu Giovanni non ho elementi guarda non ho elementi posso dire però che avendo lavorato all'istituto Gramsci avendo visto molte carte del partito comunista dell'intelligence perché il partito comunista aveva un proprio servizio di intelligence il partito comunista soprattutto nel periodo dell'immediato dopoguerra e dei primi anni 50 sicuramente ci sono molte cose piuttosto imbarazzanti che non sono state del tutto sviscerate ecco diciamo così quindi c'è un aspetto anche della storia del partito comunista che non è emerso che non è emerso del tutto e che forse andrebbe approfondito ecco io non mi spingerei non mi spingerei oltre perché se no dovremmo fare delle ipotesi tu però prego volevo tornare alla coda della tua domanda su chi era Fumagalli perché è molto importante secondo me poi dopo voglio riprendere Piperno una domanda sì 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 con grande piacere con grande piacere vai vai allora dicevo che questo strano Fumagalli appunto eroe della resistenza ma partigiano bianco anticomunista bronze star degli americani attivista di destra dei mar in contatto con tanti ambienti diversi con questa officina a poche centinaia di metri dal traliccio di segrate esperto in esplosivi in tralicci aveva già avuto dei contatti pregressi aveva teorizzato gli attentati di tralicci anche anche in altre parti d'Italia questa figura è una figura che suscita suscita molti interrogativi perché noi abbiamo una testimonianza preziosa di Francesco Bellosi detto Cecco Bill o Cocco Bill che era uno dei più cari diciamo collaboratori di Feltrinelli militante ancora oggi molto lucido che ha scritto molti libri che ha fatto parte di Lavoro Illegale che era un'altra organizzazione di quella galassia vicina a Feltrinelli e GAP e a potere operaio e che poi si è fatto insomma dieci anni di carcere per vicende legate alle brigate rosse in carcere gli è stato chiesto di uccidere Tony Negri insomma una figura di grande credibilità racconta una storia molto interessante sul fatto che dopo la guerra questo Fumagalli pian pianino proprio per la sua colorazione particolare diventa un agente un ufficiale del SID cioè dei servizi segreti questa cosa è un'indicazione molto molto interessante oggettivamente adesso la sintetizzo così il passaggio è molto lungo e complesso il modo in cui questo avviene che però lo collega a sua volta ad Amato che aveva l'ossessione di Feltrinelli tanto che che è successo eccomi continuo a vedere la domanda in sovraimpressione e si mi stanno segnalando da tutte le parti e non riesco a toglierla forse bisogna affiggiare su adesso vado a riprenderla vediamo dov'è figurati qui c'è una marea di domande e di interventi di studi non so come fare magari ti ho tecnico quando può la si glielo ho scritto non ti preoccupare non ti preoccupare volevo dire questo che l'ossessione indiscutibile di D'Amato per Feltrinelli tanto che poco dopo la morte alla riunione del club di Berna che era come dire un comitato di riunione dell'intelligence atlantica e lui si vanta della morte di Feltrinelli dice noi l'abbiamo stanato l'abbiamo costretto ad un'azione che poi si è rivelata mortale cioè solleva molte domande su questo io intervisto a lungo ecco fatto Francesco Pazienza intervisto a lungo nel libro Francesco Pazienza ex agente dei sismi il quale comunque una sua storia sia pure complessa e controversa ce l'ha e mi racconta tutti i rapporti diciamo di Federico Umberto D'Amato questa super spia dell'ufficio affari riservati del Viminale giova a ricordarlo per i nostri amici che ci seguono che era diciamo una struttura prodromica diciamo di altri servizi segreti attiva da tempo in memore ma considerato diciamo la spia più importante d'Italia poi Chef collaboratore dell'Espresso eccetera eccetera praticamente era l'uomo in Italia di James Jesus Angleton James Jesus Angleton come sai meglio di me era considerato forse il padre dell'OSS l'Office of Strategic Service a sua volta diciamo la struttura precursore della CIA no diciamo Angleton viene considerato diciamo il capo della CIA è a lungo capo stazione della CIA in Italia i genitori erano in Italia dagli anni trenta quindi insomma un papà grande massone molto importante cioè Angleton è una figura quasi mitologica nell'intelligence americana no e il buon pazienza dice che D'Amato era proprio la pedina l'uomo di mano l'esecutore diciamo delle linee suggerite da Angleton quindi che anche D'Amato si muovesse nei confronti di Fettinelli con questa tenacia con questa ostinazione è una cosa che ha certamente radici vaste poi c'è c'è anche il magistrato Antonio Bevere che dice che Fettinelli era un uomo odiato dallo Stato cioè c'erano tanti tanti tali e tanti diciamo soggetti e forze che vedevano in Fettinelli un soggetto estremamente pericoloso perché in grado poniamo potenzialmente di guidare le brigate rosse a tutti i livelli di guidare altre formazioni terroristiche di raccordarsi a livello internazionale addirittura una fonte l'unica che non ho potuto esporre il generale dell'arma mi dice persino Carlos si può considerare una creatura di Fettinelli e io stesso ho scritto all'avvocatessa di Carlos e a Carlos stesso in carcere a Parigi e la moglie che è l'avvocatessa mi dice sì mi ha assistito che anche suo marito ha molte cose da dire su Fettinelli solo che voleva essere pagata 750 euro l'ora e a me l'idea delle interviste pagate non è che piacciono molto non è solo un fatto di risparmio certamente ma le trovo un pochettino come dire al limite allora scusa io rifarei qua guarda adesso che ho imparato come si fa ti metto in evidenza una domanda di Franco Martinez prima di 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 farti io la domanda su Piper eccola eccola qua la vedi la leggi così aspetta risparmio politica ma il generale Palumbo è lo stesso che costrinse dalla chiesa ad abbandonare l'ispezione a via Mantenevoso o ricordo male sì 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 è un'indicazione è un'indicazione corretta nel senso che come diciamo risulta evidente da un'intervista che abbiamo effettuato al generale Gianpaolo Secchi che era abbraccio destro della chiesa l'uomo che infiltrò padre Girotto fratele Mitra nelle BR diciamo che l'attività investigativa su Feltrinelli viene svolta soprattutto dal capitano Buonaventura ma presenta diciamo delle delle carenze delle incongruenze ecco quando quando vengono trovate le famose bobine di Robbiano nel copo di Robbiano di Mediglia con le trascrizioni del racconto di Gunther della fine di Feltinelli a Segrate nessuno riesce a identificare questo Gunther nessuno lo va a cercare nessuno lo va a disturbare sugli altri del team resta un silenzio mertoso che dura si può dire sino a oggi nonostante uno di questi sia ancora vivo e anche relativamente giovani diciamo dei limiti di vicende storiche di 50 anni fa quindi questa affermazione del nostro amico non non mi stupisce non mi stupisce del tutto cioè Palumbo era un uomo un generale della P2 che si inseriva in un determinato contesto contesto diciamo di forze dell'ordine purtroppo inquinate ecco dal P2 ismo nascente dell'epoca posso aggiungere solo una piccola chiusa su generale Palumbo e il generale Palumbo era il grande avversario di Dalla Chiesa all'interno dell'arma e soprattutto dei nuclei antiterrorismo di Dalla Chiesa i nuclei che vennero sciolti dal generale del generale Palumbo quindi è un personaggio molto ma molto inquietante allora tu non hai altro da aggiungere su questi punti posso passare a un'altra domanda vai tranquillo vai tranquillo vai tranquillo Giovanni hai citato Piperno un aspetto molto interessante relativo all'unificazione dei quartieri generali diciamo così militari delle varie organizzazioni della galassia della lotta armata non c'era ancora all'epoca il partito il cosiddetto partito armato che è un'espressione che conosceremo più quasi 76 77 78 al ridosso dell'operazione dell'operazione Moro però un altro punto controverso sulla figura di Feltrinele qui mi piacerebbe conoscere la tua opinione e anche quella di Piperno che ruolo ha avuto Feltrinelli da questo punto di vista cioè è stato lui il motore di il motore iniziale cioè il motore che ha dato la spinta iniziale quantomeno a una a un processo diciamo di organizzazione di unificazione di una galassia molto variegata della lotta armata e poi diventato partito armato dopo la morte di Feltrinelli sì è una domanda di straordinario interesse da un lato lui si è sempre proposto come federatore della galassia delle forze rivoluzionari addirittura organizzò un convegno nel 71 all'istituto Stenson di Firenze in cui fece arrivare le sue spese anche esponenti dei Black Panthers dell'Ira dell'Eta esponenti delle RAF dei collettivi metropolitani di Berlino quindi tento sempre estremamente di creare un comando unificato un coordinamento organizzato che idealmente nella sua visione doveva essere sotto la sua direzione strategica in questo contesto però si inserisce un network fortissimo estremamente interessante sul piano intellettuale dell'analisi che è quello di potere operaio con figure come appunto il professor Franco Piperno fisico tutt'oggi molto lucido Tony Negri insomma professore a Padova poi autore non molti anni fa del famoso libro Impero con Michael Hard studioso di Harvard Oreste Calzone è tutto un nucleo diciamo di personaggi che secondo la definizione di Tony Negri amava definirsi una massoneria mozzartiana oppure anche detta degli eletti diciamo stavo cercando una domanda proprio sull'argomento ti volevo continua esatto se la stavo cercando non la trovo più comunque concludi la cosa interessante è che io nel corso di questi oltre dieci anni di lavoro dedicati ai Tentinelli ho dialogato più riprese con Piperno e nell'ultima intervista che forse è la più interessante che è molto recente del 2022 lui mi dice che addirittura il network di potere operaio era non solo il più internazionalista in assoluto avendo sedi a Londra sedi in Canada non a caso Piperno è stato a lungo in Canada a New York in Francia a Russia a Michael Hard di Harvard a Parigi in Spagna in tante parti del mondo ma che addirittura è ancora vivo e vegeto cioè lui rivendica il fatto che questa setta degli eletti questa massoneria mozzartiana è ancora viva e vegeta ed è un altro dato curioso un'altra piccola scupa che vi regalo è che il buon Toninegri che io tramite via e traverse è molto complicato e sono riuscita a individuare dov'è e ad avvicinarlo vive in Trentino tranquillamente in un borghetto del Trentino circondato guarda caso da una comunità piuttosto consistente di intellettuali palestinesi anche qui torniamo a tutto questo filone internazionalista di potere operaio che ha però un altro pandan su cui c'è una persona che magari potrebbe intervenire che abbiamo intervistato Maurizio Fiorentini che ha scritto delle cose mirabili proprio nella pagina 16 marzo che è un tuo grande ammiratore che tu ben conosci è qui è qui è qui è tra noi è tra di noi vive insieme a noi vive insieme a noi lo salutiamo ciao Maurizio ciao Maurizio con cui abbiamo fatto una bella presentazione l'altra sera a Trieste anzi a ronchi dei legionari per essere precisi con lui e Bartolina e lui definisce Piperno un alter ego di Fettinelli una specie quasi di burattinaio di Fettinelli ma curiosamente identifica un secondo alter ego di Fettinelli in Corrado Simeoni questa misteriosa figura che aveva creato anche lui questa specie di setta in cui c'era addirittura c'erano lo scambio delle donne c'era la comunità sessuale delle compagne le famose zie rosse tutte cose su cui tu Giovanni ci puoi intrattenere per ore è molto meglio di te e con maggiore competenza ho dimenticato tutto ormai c'erano no no c'erano figure come Duccio Berio che io ho raggiunto a Parigi però scusami non deviare da quel tema estremamente interessante cioè da questa affermazione di Piperno secondo cui appunto esiste tuttora questa massoneria mozzartiana secondo lui esiste ancora e scusami aspetta 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 ferruccio esiste e che cosa fa e dove sta ma guarda ovviamente noi qua siamo in una diretta che può essere anche registrata per cui sai abbiamo quello che certo di una certa cautela quindi ovviamente vorrei iniziare iniziare a fare un po' di nomi no 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 cautela 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 parliamo dei meccanismi ci siamo già spinti molto in line questa trasmissione direi però ecco questi meccanismi sono meccanismi diciamo estremamente sofisticati da un lato di analisi della realtà politica nazionale e internazionale di rapporti con ambienti dell'intelligence molto mirati perché Piperno per esempio credo che questo non sia un'offesa per esempio viene da un'importantissima famiglia ebraica calabrese no e quindi non mi stupirebbe se il professor Piperno o persona di grande cultura avesse avuto o avesse delle fonti per esempio in quei mondi ma il mondo di potere operaio però era un mondo che dialogava ad ampio raggio lo stesso Piperno mi ha detto che Fettinelli aveva un'ammirazione per Marcus Wolf la famosa super spia no che si infiltrò ai vertici del governo tedesco creando una crisi inimmaginabile all'epoca e gente che flerta anche con la massoneria nel senso che la massoneria è network informativo privilegiato forte in un caso qui parliamo più di Iperio Lucio Berio in commissione sentito in commissione mi pare Moro raccontò che il padre era un massone un trentatresimo trattatresimo grado che aveva avuto che era stato forse avvicinato anche dal Mossad sono tutte dimensioni molto di livello molto sofisticate molto alte di gente che non scende in strada con le armi con i kalashnikov con le mitragliette o con le bombe ananas e gente che però è in grado di tirare dei fili di muovere di scambiare informazioni estremamente riservate e quindi che questo network sia vivo e vegeto io lo trovo un'indicazione estremamente credibile solida tu cosa ne pensi Giovanni io io penso che adesso non so se 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 io possa io io con la base delle mie conoscenze si possa definire proprio massoneria mozzartiana però sicuramente diciamo che la rete logistico e la rete anche intellettuale del del partito armato è una rete che non è mai stata del tutto smantellata ed è una rete in sonno è una rete in sonno se tu vai a vedere non so per esempio cosa fa Duccio Berio oggi Duccio Berio lavora per una società francese importantissima di intelligence economica che a sua volta opera per governi per multinazionale fa il suo lavoro cioè fa un lavoro di intelligence applicata chiaramente alle decisioni strategiche all'economia ma fa quello che più o meno ha sempre fatto lui ha fatto Simeoni cioè Simeoni c'è la sua nota fotografia a Colabe Pierre ricevuto da Giovanni Paolo II ecco Simeoni che guidava Iperion che veniva ritenuto una centrale diciamo del terrorismo di scambio di informazioni un po' come nel film che citavamo prima a Munich quando c'è quella figura di Luis questo fascinoso francese di questa famiglia borghese con meravigliosa villa in campagna che scambia informazioni tra servizi cioè quella indicazione lì di Spielberg che tutto forché è un cretino non è un'indicazione a casaccio non solo è basata sul libro di Jonas ma esistono ed esistevano ed esistono delle figure chiamiamole di intermediari di networking di alto livello che scambiano informazioni con con l'intelligence ecco in questo senso lì un filone che sarebbe tutto da sviluppare sarebbe per esempio capire come si interrelata Ava che il Trinelli col mondo inglese tu prima della preparazione di questo incontro hai fatto una supposizione che non so se ti senti no 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 d'accordo però però mi sento di dire di queste cose di dire io deve parlare quando quando c'è una documentazione mi sento di dire io che lui lui è sicuramente in quella tradizione diciamo di aristocratici come erano Filby McLean Barghese il gruppo famoso dei 5 di Cambridge che nonostante venissero dalla borghesia più otolocata del paese addirittura uno era cugino della regina di venero spie dei russi per moltissimi anni facendo dei danni incredibili no lo stesso Carlos lo sciacallo è andato via mi vedi perché improvvisamente è buio visto vabbè abbiamo toccato forse forse abbiamo toccato dei temi scomodi ma vabbè stavi dicendo scusa dicevo che insomma lo stesso Carlos lo sciacallo era diciamo figlio di una famiglia ultra borghese il fratello si chiamava Lenin era stato un mandato dal padre a studiare alla Lomba University a Mosca lui era allievo di un famoso diplomatico che scrisse quel libro dal buon selvaggio al buon rivoluzionario insomma c'è un filone alto di internazionalisti che poi spesso sconfinano come nel caso della rete di potere operaio in figure diciamo quasi di intelligence si è pure votata su un certo tipo di causa estremamente affascinante che è in possesso di informazioni di chiavi di lettura della realtà di 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 leve molto sottili anche di dossier spesse volte personali con cui sono in grado eventualmente di effettuare pressioni quindi è un terreno diciamo delicato di cui però è il terreno di cui si nutre di cui si nutre l'intelligence come sai meglio di me certo guarda ferruccio due ore e mezzo precinto precise con un livello di attenzione che è stato che è stato costante dall'inizio fino fino alla fine e quindi vuol dire che sei stato molto bravo e sei riuscito a tenere alta la la tensione e l'attenzione e io non vedo non vedo quegli ulteriori ulteriori domande io ne avrei da fare io ne avrei tante da fare a te ne avrei da fare a te no un'altra volta un'altra volta e quindi vorrei concludere questa serata molto interessante con questa domanda ferruccio sarà una domanda forse un po' banale ma chi si occupa di queste cose chi ha familiarizzato in qualche modo con la figura di Feltrinelli e credo che si sia domandato e si domandi tuttora ma insomma qual è stato poi in fondo il lascito di un personaggio come lui beh una domanda molto importante lui ha sicuramente lasciato un'eredità molto importante che è quella di un'editoria avanzata un'editoria interessata ad affrontare temi difficili temi scomodi soprattutto per quell'epoca che andavano dalle battaglie di liberazione giusto appunto del popolo palestinese fino all'omosessualità ai diritti civili alle masse operaie alla psicanalisi alla letteratura quindi è stato pensiamo non so anche la scoperta di capolavori come cent'anni di solitudine di Gabriele Garcia Marquez autori come Gunter Grass il famoso Gunter fu chiamato proprio per analogia Ernesto Grass Gunter Grass quindi l'ascito è quello della sua casa editrice che tuttora oggi prosegue con il suo nome delle librerie che fanno un'attività anche sociale importante di incontro delle persone l'attività della fondazione Fettrinelli che è una sede meravigliosa che fa degli studi molto importanti che ha un patrimonio assolutamente considerevole lascia soprattutto diciamo l'ideale di un intellettuale impegnato in prima persona per le cause degli oppressi dei diseredati diseredati di tutto il mondo io credo che questo sia il lascito più importante di Giacomo Fettinelli bene io ringrazio Ferruccio Pinotti per essere per aver resistito così a lungo ho visto però ogni tanto che qualcuno chiedeva ma non si vede il libro allora siccome il libro è stato il prete ecco sì se puoi farlo ecco facciamolo vedere il libro ecco si intitola ecco Anfield parola inglese che vuol dire non detto sottotitolo la vera storia di Giacomo Feltrinelli casa editrice vuoi dirlo tu round robin di Roma round robin di Roma diretta da Luigi Politano una casa giovane coraggiosa che fa lavori diciamo investigativi di approfondimento con grande coraggio e libertà benissimo eh grazie ai tantissimi ma proprio tantissimi amici che ci hanno eh seguito e vorrei dare l'appuntamento a loro a venerdì 10 giugno alle 17 parleremo di eh Giovanni Falcone a 30 anni dalla morte con il sociologo Pino Arlacchi che è stato suo amico anche suo collaboratore e quindi anche quella sarà una video diretta di estremo interesse ripeto venerdì 10 giugno alle 17 e con questo vi ringrazio e vi saluto grazie tante anche e ovviamente a Ferruccio Pinotti e pregherei di restare ancora un attimo qui per un saluto dietro le quinte diciamo ciao a tutti grazie grazie e buonasera grazie mille grazie a tutti